Potenziare i rapporti commerciali nel settore agroalimentare è l'obiettivo dell'incontro tra Confagricoltura Varibat e la delegazione del Vietnam che in questi giorni è in visita in Puglia. La volontà reciproca è quella di rafforzare i legami commerciali e culturali puntando su innovazione e sostenibilità. La delegazione vietnamita ha mostrato grande interesse per i prodotti agricoli pugliesi, in particolare per l'olio d'oliva e il vino, simboli dell'eccellenza locale. Abbiamo incontrato nella sede di Confagricoltura Varibat una importante delegazione proveniente dal Vietnam, un incontro istituzionale che però ha dei risvolti importanti dal punto di vista commerciale perché è stato molto apprezzato la nostra conoscenza del settore agroalimentare, le eccellenze che esprimono le aziende di Confagricoltura nel settore agroalimentare. Penso alla filiera vitivinicola, a quella olivicola, a quella dell'ortofrutta e quindi grande interesse da parte della delegazione vietnamita che è stata ricevuta ieri anche dal nostro presidente regionale per poter intensificare i rapporti politici e commerciali in importazione ed esportazione nel settore agroalimentare. La delegazione vietnamita si è detta interessata a sviluppare con la Puglia forme di cooperazione nell'automazione e nell'intelligenza artificiale applicata alla produzione agricola. L'obiettivo è instaurare relazioni stabili per far conoscere meglio la cultura vietnamita ai pugliesi e incentivare gli investimenti reciproci nei due paesi in ricerca e innovazione tecnologica.